Il Cantico delle creature, conosciuto anche come Laudes Creaturarum, cioè l'odi delle creature, è considerato da molto tempo il primo testo artistico, il primo testo quindi con valore di poesia della nostra letteratura. È per noi innanzitutto interessante fare dei rilievi di tipo storico, proprio sulla lingua che Francesco usa nel Cantico, perché essendo un testo così antico, così vicino ancora al momento in cui era in corso la trasformazione, il passaggio dal latino al volgare, cioè in cui l'uso letterario del volgare era appunto alle origini, fortissimi troviamo ancora i segni, i residui, gli indizi della prossimità con il latino. Si può fare riferimento alla grafia, il fatto che molte parole sono precedute dall'H, un H naturalmente muta che non va pronunciata e tantomeno aspirata e che è soltanto il residuo della grafia latina, onore, umile, erba, o la parola acqua scritta con la sola Q senza la C a precedere, forme di grafia quindi latineggiante, o la grafia della pronuncia Z che in latino è TI più vocale, come in significazione scritto con la T ma da pronunciare con la Z, o preziosa o tribulazione, una regola, una norma di pronuncia che appunto non esiste in italiano e che infatti presto porterà alla sostituzione di questa consonante con la Z. Congiunzione E al posto della quale troviamo in molte posizioni il latino ET, ET tonne benedizione, ET nullo omo, ET preziose, ET belle. Poi le mancate assimilazioni consonantiche, cioè il fatto che residuano in alcune parole le due consonanti diverse che poi nell'italiano, nello sviluppo dell'italiano, si assimileranno, cioè diventeranno un'unica consonante come benedizione, benedizione, o tucte che diventerà tutte, o nocte, fructi, la C e la T qui diventeranno un'intensiva T, dentale sorda soltanto. O poi le finali ancora memori del latino in U tipiche tra l'altro del volgare Umbro, dalle quali è caduta la consonante S o M, ma non c'è stato ancora lo schiarimento verso la O che poi avverrà nell'italiano moderno. Nullu omo, ene dignu te mentovare, e così via. E poi la presenza, infine, gli elementi sono molti altri, ma mi limito ai fondamentali, di preposizioni latine vere e proprie, usate sistematicamente dentro l'italiano, fin dall'inizio, fin dal terzo rigo. Ad te solo, altissimo, o anche cum grande splendore, proprio il cum latino.